Raffaella Carrà è 100.000 volte meglio di Madonna. Chi è Madonna? Io non lo so, so chi è Raffaella Carrà. Gianna Nannini è la più grande artista rock italiana ma anche dei maschi, no? Perché di femmine ce ne sono troppo poche, non vale, capito? In più famosissima nel mondo, capito? E io ho paura a cantare davanti a lei ma mi ha scritto un pezzo ragazzi, super. Ciao, 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 ciao. Il coraggio è un cielo diverso. Cosa c'è di più vero al mondo? Forse tu non ci crederai. Per amore hai toccato il fondo ma non ti basterà. Tocca la vita, dai. Bella la vita, vai, 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 via, vai. Con il tuo entusiasmo ridendo. Come on, come on, come on, come on. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao! Il coraggio è un cielo aperto vivendo Come on come on come on